Per tutti ora è Jakesimus Ha cambiato nome Luke Sharice, cantante filippina apparsa in tre puntate della seconda stagione della serie Tivoli, e ospite nel 2009 dello show per bambini di Rai 1 ti lascio una canzone Artista talentuosa, Sharice aveva confidato a Oprah Winfrey tre anni fa di avere un'anima maschile e era deciso di indossarla definitivamente Capelli forti e vestiti maschili, il nuovo Jake ha raccontato il percorso intrapreso per lasciare i fan di Sharice Pentejko, divenuta appena adolescente una star della scena pop internazionale, se conoscete Sharice e chi l'amava bene, forse loro mi daranno una chance, forse non come Sharice, ma come Jakesimus Ho l'età giusta e penso che ciò è quello che vedo e ho il diritto di decidere per me stesso, ha spiegato ancora, io sono la mia priorità, amarmi è la mia priorità Sono molto felice della transizione, soprattutto la prima volta che ho fatto un'iniezione di testosterone Avevo una sensazione strana, mi chiedevo qualcosa è cambiato? Ma niente era ancora cambiato Attualmente sono felice di questi cambiamenti Ma evidentemente, non ci sono ancora grandi cambiamenti, giusto la voce Sulla possibilità di un intervento chirurgico per il momento l'artista 25enne dice di non essere pronto E se anche la voce è cambiata, il suo talento resta immutato Sharice Pempenchko prima della trasformazione